Con il sindaco di Cariati, la sindaca, l'avvocato Filomena Greco, ci incontriamo dopo un po' di tempo per farci una delle nostre solite chiacchierate ed informare gli amici che seguono Cariati.net. Salve sindaco, grazie di essere venuto a questo incontro. Partiamo essendo entrati nella stagione autunnale con fare un'analisi di quella che è stata la stagione estiva, vale a dire quello che per voi è stato il primo vero banco di prova per la tua amministrazione, ecco il primo anno dove avete affrontato pienamente questa stagione in tutte le sue problematiche. Puoi dare un tuo giudizio più globale e dire la mia amministrazione quest'estate l'ha condotto in un modo esemplare come ritieni che sia stato, ma diciamo con un voto, da 1 a 10, quanto merita la tua squadra? Intanto buonasera a tutti e grazie per questa intervista. Quanto merita la mia squadra? Sicuramente un 8. È ovvio che quello che è stato fatto rispetto a quello che era non ha dato il massimo dei risultati, anche perché come tutti quanti noi sappiamo per fare delle belle cose c'è bisogno di soldi e questo purtroppo il nostro comune non se lo può permettere in questo momento. Però diciamo che con le poche risorse economiche che abbiamo avuto in questo periodo per approntare una stagione estiva sono veramente soddisfatta per com'è andata, innanzitutto per quanto riguarda la raccolta differenziata, ma anche se qualcuno dice che gli eventi non ci sono stati, sicuramente ce ne sono stati più degli anni passati e sicuramente hanno dato dei buoni risultati perché i turisti sono stati contenti. È normale che purtroppo noi avevamo chiesto un contributo alla Regione Calabria che però non ci è stato dato e quindi non abbiamo potuto fare tutto quello che avremmo voluto. Rimaniamo sempre nell'ambito dell'estate qui a Cariati. Vorrei parlare un pochettino di presenze, se siete informati sui numeri, se quest'anno abbiamo avuto un'affluenza di turisti maggiore o minore agli anni precedenti. Allora, sui numeri ancora non siamo informati, speriamo di avere presto la statistica delle presenze. Quello che posso dire è che sicuramente c'è stata molta gente, però non di turismo vero e proprio, cioè diciamo che sono state le presenze legate alle seconde case. Il turismo vero, quello che porta veramente economia, è ancora da venire, qua a Cariati perché dobbiamo buttare i presupposti e fare una progettazione affinché questo possa avvenire, possono trovare dei servizi, un'accoglienza che li soddisfi e che li riporti poi a ritornare sul nostro territorio. Quindi diciamo che da questo punto di vista sicuramente c'è stata una maggiore affluenza ma questo l'abbiamo visto anche nei servizi che sono stati richiesti, quindi nella quantità dei servizi per quanto riguarda per esempio i rifiuti prodotti. Però sicuramente, a meno da quello che ho sentito per quanto riguarda la parte commerciale, non c'è stato economicamente un ritorno maggiore rispetto a quello dell'anno scorso per i nostri commercianti, i nostri territori turistici. Vedremo di fare un'indagine anche poi tra i commercianti per sapere meglio come è andato più nello specifico. È collegato forse a questa domanda delle presenze, anche quello che sto per fare adesso, vale a dire tassa di soggiorno che per la prima volta a Cariati è stata applicata. In che modo, vogliamo entrarci velocemente, è stata applicata e se ha portato dei soldi nelle casse del Comune? Un po' rispetto a quelli che avrebbero dovuto essere. Diciamo che non tutti quelli che dovevano versare hanno versato e sicuramente anche da questo punto di vista ci sarà un controllo da parte sia dell'amministrazione che di altre autorità perché ovviamente, come tutti quanti noi sappiamo, la tassa di soggiorno comporta da parte di chi la deve versare l'assunzione di responsabilità. Quindi diciamo che è stata versata in modo molto sporadico. È stata uguale per tutti oppure c'erano delle differenziazioni? C'erano delle differenze secondo delle stelle, secondo della tipologia, tipo se sono alberghi, se sono B&B oppure se si tratta di agriturismi, la somma cambia secondo di chi deve versare. Però non hanno versato tutti quelli che dovevano versare. Quindi diciamo che il frutto di questo versamento si dovrebbe vedere poi l'anno prossimo, quelli che dovrebbero essere... Si sarebbe dovuto vedere anche quest'anno. Il problema è che chi doveva versarla non l'ha versata. Giusto, però io dico magari i benefici legati a queste entrate si dovrebbero vedere poi l'anno prossimo perché quest'anno è il primo anno che sono entrati questi soldi. Queste somme verranno spese per, come previsto nel regolamento, per tutto quello che riguarda il turismo. Quindi è ovvio che verranno utilizzati per rendere più bello, più attrattivo, più funzionale il nostro territorio. Bene, in un certo senso già prima mi hai dato un'accenna a quella che dovrebbe essere la risposta alla domanda che sto per fare. Vado a dire la programmazione estiva cariatese, una cosa molto importante qui a Cariati durante l'estate. Vi sono state mosse delle critiche, che sono stati organizzati pochi eventi. Io aggiungo, come mai non si è pensato di creare qualche evento importante, diciamo così, di attrazione a livello regionale? Perché no? Forse anche a livello nazionale, considerando che ci sono dei paesini, anche più piccoli di Cariati, che riescono ad organizzare eventi importanti, riconosciuti in tutta Italia. Qualcuno direbbe per mancanza di consigli, non mi sembra il caso. Per mancanza di soldi, cioè la verità è quella che se non si hanno soldi e se non si hanno dei finanziamenti, dei contributi o degli investitori che danno la possibilità di creare degli eventi, sicuramente ogni evento ha un costo e soprattutto gli eventi che noi vorremmo fare a livello nazionale e diventa difficile portare qui degli artisti importanti senza avere delle somme da potergli corrispondere. Gratuitamente purtroppo non ci viene nessuno, quindi è ovvio che questo rientra in una programmazione, in una progettazione che ovviamente si potrà realizzare sempre se avremo delle risorse economiche. Tu sai benissimo, così come lo sanno tutti, che noi siamo in fase di dissesto, in fase di dissesto tutte quelle che sono le somme superflue non possono essere in alcun modo sottratte all'economicità dell'ente. Quindi tutto quello che sono appunto eventi ed altre manifestazioni devono essere un po' messo da parte perché le somme servono per altre cose. Diciamo che già dai primi di ottobre noi stiamo organizzando una riunione con tutti gli operatori commerciali e tutti gli operatori turistici perché sicuramente se non si muovono anche i privati, e a Cariati comunque devo dire che questo tipo di problematica non c'è perché sia i commercianti che gli operatori turistici sono già pronti a fare questo tipo di passo sicuramente dandoci una mano anche a livello economico e allora a quel punto si potranno fare anche delle, si potranno progettare degli eventi diversi. È normale però Cataldo che questa sarà una delle nostre battaglie per il prossimo anno anche con delle sanzioni pesanti che se si chiudono i lidi a fine agosto non si mantengono aperti i ristoranti nel periodo di settembre. Per esempio in questo periodo io mi sono ritrovata a pranzo a non avere dei ristoratori aperti, dei ristoranti aperti, è stato veramente difficile. So che per esempio anche in questo i commercianti tra di loro si stanno muovendo, ed è una bellissima cosa perché significa che sentono la necessità proprio di una programmazione maggiore. Ho parlato con alcuni di loro, io li ho sostenuti in questa loro unità di intendi per portare avanti un discorso tra di loro per mettersi d'accordo su quando chiudere e come rimanere aperti. Però sicuramente un paese turistico come Riccariati che basa il suo turismo oggi sul mare, quindi sul turismo balneare, non possiamo assolutamente accettare che i lidi vengono chiusi subito dopo ferragosto. Permettimene anche solo il mare perché si parla di valorizzazione del centro storico, però poi ci sono stati turisti purtroppo, devo fare notare, che a pranzo dovevano scendere al Lamarino per andare a pranzare. Quindi anche queste cose vanno tenute in considerazione, non solo alla Marina, una programmazione più attenta e precisa, ma anche al centro storico. Questa purtroppo è una questione proprio di mentalità che è nostra che deve cambiare, perché noi faremo in modo come amministrazione che ci siano dei controlli e ci siano anche delle sanzioni, però devono essere anche i commercianti, gli operatori turistici, insomma tutti quanti, anche tutti i cittadini a capire che se noi teniamo aperto il nostro lido, magari quest'anno verranno soltanto 5 persone a settembre, ma l'anno prossimo ne verranno 15, poi ne verranno 20, come avviene in tutti i paesi dove c'è un turismo balneare con i centri storici, è ovvio che anche nel centro storico devono rimanere aperti quei pochi ristoranti che ci sono. Purtroppo questo non è avvenuto e ne abbiamo risentito soprattutto nel mese di settembre. L'anno prossimo sicuramente già sarà un po' diverso perché vedremo come fare per programmare sin dal primo maggio e fino a fine settembre l'apertura di tutti quanti i locali, sempre. Bene, come per esempio pure il fatto di poter comprare un giornale nel centro storico, poter fare anche un prelievo Bancomat nel centro storico, ma non ci dilunghiamo su questo. Lo sai che non dipende soltanto dal comune, quindi dipende pure da tanti altri fattori, per esempio la questione del Bancomat è stata già richiesta anche alle poste, ma non hanno risposto positivamente. Su questo faremo un'indagine. Parliamo di differenziata. Allora noi gli diamo 8 alla raccolta differenziata, però per noi come voto il massimo si intende 10. Cosa fare ancora per arrivare a questo voto pieno? Tu sei stato molto buono. Io darei 8 alla raccolta differenziata perché i cittadini hanno veramente recepito questa cosa. Purtroppo io non sono contenta come sindaco per com'è andata, perché ho notato che alcuni di coloro che più si avvantaggiano della raccolta differenziata, la raccolta differenziata non l'hanno fatta. Parlo soprattutto delle attività commerciali e delle attività turistiche, perché sicuramente fare la raccolta differenziata è una fatica, è anche economicamente dispendioso perché deve avere chi ti smaltisce, chi ti differenzia il materiale, i rifiuti. Però è vero pure che da quello nasce poi tutto, perché una delle cose che ci hanno più apprezzato a Cariati, i numerosi turisti, ma anche coloro che sono semplicemente passati, è stata proprio la pulizia delle strade, cose che in altri paesi non c'è stata. Quindi io mi auguro, e quest'anno non abbiamo potuto controllare a pieno, perché abbiamo avuto anche degli altri problemi relativamente ai controlli sul territorio, però diciamo che per l'anno prossimo, quest'anno è stata una prova, l'anno prossimo sicuramente saremo molto più pronti. L'anno prossimo sarà un esame per... Tu all'inizio dicevi che questo è stato un banco di prova, non è stato un banco di prova. Per me non è stato questo il banco di prova, perché come amministrazione noi siamo un'amministrazione di non amministratori, cioè nel senso che è la prima volta che noi amministriamo un paese, e quindi sicuramente quest'anno ci è servito per capire tante cose, per capire anche come comportarci nel rapporto con i vari utenti. Parliamo anche di pulizia delle spiagge, pulizia delle acque del mare, che a volte sono state fatte delle segnalazioni non piacevoli. Per voi tutto regolare? Per noi, noi appena abbiamo avuto le segnalazioni abbiamo fatto fare i controlli. i controlli li ha fatti l'ARPACAL, prima poi sono stati fatti degli autocontrolli da parte del Comune di Cariati, era della mucillaggine, almeno questo è quello che ci è stato riferito. Non abbiamo avuto problemi, per quanto a me, a mia conoscenza, non abbiamo avuto problemi di altri tipi di inquinamento a mare, tipo fognatura e cose del genere, anche se alcuni cittadini hanno, proprio a fronte di quello che i cittadini hanno detto, noi immediatamente ci siamo attivati. Questo è quello che è uscito dai risultati. Ovvio, bisogna controllare di più le perdite di vari pozzi che ci sono in giro. Diciamo che la nostra rete, la rete del depuratore e della fognatura, è stata monitorata 24 ore su 24 per tutto l'anno scorso, e soprattutto ovviamente d'estate. Quindi, almeno che mi risulti, non ci sono state problematiche. Parliamo di rete idrica, o meglio, di gestione idrica nel nostro Comune. Quest'estate si sono visti spessi degli automezzi trasportare, autocistene trasportare acqua, il che significava che da qualche parte mancava. Cosa bisogna fare per risolvere definitivamente questo problema dell'acqua a Cariati? Basta solo scavare dei pozzi o il problema è di natura diversa? Allora, il problema dell'acqua, la carenza idrica l'abbiamo avuto soltanto nella zona di San Cataldo, quindi nella parte nord di Cariati. Abbiamo avuto per un periodo, quando la Sorical, e questo è documentato perché ci ha scritto più volte, ma si sa, abbiamo avuto un periodo di grave siccità in tutta la Calabria, la Sorical ha ridotto di molto la portata dell'acqua. E quindi ovviamente c'è stato un abbassamento di pressione, per cui abbiamo dovuto mandare l'acqua a seconda delle varie zone, chiudendo in altre. Quindi diciamo che da questo punto di vista ci sono state delle carenze, non così gravi e non gravi come ci sono state in altri paesi e in altri luoghi. A Cariati, diciamo che per esempio Cariati Superiore non ha mai avuto problematiche relative all'acqua quest'anno, neanche l'anno scorso, né tutta la parte della Marina. Allora, il problema sicuramente, visto quello che ovviamente dicono i professionisti del settore, stiamo andando verso dei grossi periodi di siccità. Quindi dobbiamo cominciare a pensare ad avere degli ulteriori pozzi, sicuramente nostri, perché Cariati comunque è una zona dove l'acqua c'è. Il problema, ritorniamo sempre al problema base, che non ci sono i soldi. Premesso è sempre quello. Però stiamo vedendo come fare per poter attivare, anche a livello, farci a livello europeo, per prendere dei finanziamenti. Sono venuti già degli esperti al riguardo a fare dei vari sondaggi, varie ditte, per verificare anche il tipo di soluzione che ci prospettavano. Adesso dobbiamo valutare, ma prima dobbiamo sapere se ci sono i fondi. È ovvio che poi noi abbiamo una rete idrica vetusta, molto lasciata, abbandonata a se stessa, vecchia, quindi andrebbe ripristinata, andrebbe ripresa comunque per dare una maggiore affluenza dappertutto. Abbiamo noi in questo anno e mezzo di amministrazione riparato tantissime rotture ataviche. E quanti interventi avete fatto in questo anno e mezzo? Abbiamo riparato tantissime rotture che c'erano, tipo Carriati Superiore, gli mancava l'acqua da sempre, perché c'erano 4-5 rotture di anni che non erano mai state riparate. Quindi abbiamo cercato di fare fronte a questo, abbiamo riparato le pompe che ovviamente erano state abbandonate, pure quelle, molte presso il soggetto che, la ditta che ce li ripara. Insomma, stiamo cercando di mettere, che poi non è semplice, però anche perché soprattutto nel settore dell'area tecnica abbiamo trovato moltissime difficoltà nel riparire documentazione, nel riparire gli strumenti. Insomma, abbiamo avuto e abbiamo ancora tanti problemi e li stiamo vedendo soprattutto adesso che i commissari ci stanno chiedendo, ad esempio, l'inventario. Per cui stiamo facendo l'inventario, ma molte cose di quelle che risultano acquistate poi effettivamente non ci sono e non c'è neanche una denuncia di smarrimento o di furto o di qualche altra cosa. Quindi sicuramente da questo punto di vista ci saranno delle altre cose che verranno e emergeranno. Purtroppo siamo anche come carenti di dipendenti, quindi stiamo cercando di porre rimedio nel modo migliore possibile. Bene, chiudiamo questa prima parte dell'intervista pensando già al Natale prossimo, visto che abbiamo parlato dell'estate, cominciamo a pensare al Natale, o meglio, voi state pensando già come meglio organizzare questo periodo natalizio prossimo qui a Cariati, con eventi o altro? Sì, se ci danno a mano qualcuno sicuramente faremo tanti eventi, perché ci sembra una cosa brutta da dire, però purtroppo è quello. Anche per gli eventi natalizi stiamo cercando di un po' di autotassarci noi, un po' grazie anche alla società che ne dica qualcuno se è preso 5 euro per ricordo, poi se vogliono venire a vedere quanto invece ne ha speso lo possiamo fare per sostenerci, ho fatto la sponsorizzazione, si sta occupando di tutta la programmazione e si occuperà anche del Natale e ovviamente cercheremo per quanto possibile di rendere bello e luminoso il nostro Natale. È ovvio che sicuramente non penseremo sui cittadini, quindi faremo in modo che sia bello, luminoso, accogliente, partecipato, ma senza andare a spendere soldi che non abbiamo. Bene, grazie Sindaco. Allora chiudiamo questa prima parte della nostra intervista. Riprenderemo poi con la seconda con altri quesiti. Grazie mille e buonasera a tutti.